Chi le ha create e chi le usa? Sembra che il gioco delle carte sia stato inventato dalle concubine cinesi mantenute a corte che volevano vincere la noia. Nell'anno 969 d.C. l'imperatore cinese Muzung denunciò le carte come la causa di infinite disgrazie nella famiglia del duca Chen. A Firenze il gioco a carte fu interdetto e nel 1400 lo stesso avvenne in Olanda, Svizzera, Germania e Francia. Nel XIV secolo in Italia fu creato il gioco dei tarocchi. Perché le carte hanno una cattiva fama? Commento Perché chi le ha create e chi le usa appartiene a una forma coscienza prima e ad una forma pensiero poi altamente energizzate nel corso dei secoli dall'evoluzione medio-bassa. Alla prossima Alla prossima Grazie a tutti